da parte del pilota di Salvaggio Domenico Daniele, Daniele, come si mi dicono come Daniele Grosso cambiamo il mondo ufficialmente così Battiera Scacchi da parte del presidente da parte Daniele Salvaggio con la sua 112 e il suo primo giro, ricordiamo che sono tre i giri cronometrati finito la paruta finito la paruta Daniele con il tempo di 36.675 36.675 il primo giro delle pilota Salvaggio Domenico a Daniele Domenico, a Daniele passo Salvaggio chiude il secondo giro 35.405 nessuna penalità con il VK si può preparare Graffato Salvatore attenzione andiamo a comunicazione ai nostri sbanderissi coloro che sono dello staff Graffato Salvatore si può presentare all'interno la pista e il nostro circuito Grazie